Buffer è un sistema per condividere sui social network i nostri post in maniera schedulata ossia programmandoli, replicandoli e tracciandone gli effetti si può utilizzare comunque sui social network e potete fare l'escrizione per esempio con twitter o con facebook una volta che avete accesso al pannello di controllo lo vedrete sulla sinistra tutti gli account che state gestendo con la versione gratuita si possono gestire fino a 4 account, uno per social, poi la versione a pagamento se ne possono gestire fino a 12 nella colonna buffer trovate gli status che state condividendo che sono in programmazione per esempio questo è in programmazione alle 9 e 13 però posso anche scegliere un orario più tardi o un altro giorno gli orari vengono indicati nella scheda schedule dove potete schedulare gli orari in cui volete postare ogni giorno per i diversi giorni della settimana se utilizzate Buffer Pro altrimenti in un'unica maniera in tutti i giorni se utilizzate la versione gratuita per aggiungere un post nel Buffer basta cliccare qui sopra dove c'è scritto what you want to share scrivete per esempio ciao a tutti come va selezionate gli account su cui volete postare ok per esempio se ne gestite più altri a livello aziendale una volta che avete scelto potete aggiungere un'immagine scegliere l'orario specifico a cui postare altrimenti verrà aggiunto al Buffer e decidere se postarlo subito e aggiungerlo al Buffer se aggiungete al Buffer il post lo ritroverete appunto nel Buffer vedete qui adesso aggiornando un attimino la schermata rivedrete tutta la colonna con i vari Buffer eccolo qua questo è programmato domani e gli altri verranno aggiunti successivamente nella colonna Analytics potete vedere l'effetto che hanno avuto i vostri post in questo caso per esempio quello che è andato meglio per adesso è questo qui che promuove il mio nuovo blog è il primo post del blog come potete vedere ha raggiunto quasi 7000 persone ha avuto 33 clic, una mention e due retweet se cliccate su retweet dovreste essere anche in grado di vedere chi vi ha retweetato in questo momento non lo vedete perché sto utilizzando un blocker che togliamo subito ok adesso se rifrescio dovreste poterlo vedere niente c'è ancora qualcosa che lo blocca comunque nella versione normale lo potete vedere nei setting potete impostare link shortening come suggerisco è meglio utilizzarlo con Bitly o Bitly come volete dirlo e aggiungere delle persone coinvolgendoli per gestire l'account questo solo però se avete la versione pro e basta tutto qui queste sono le cose principali da sapere e niente spero che vi possa essere utile questo servizio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti